Con domani saranno già tre anni dal crollo del palazzo loiacono maraventano di Agrigento. Il fatto avvenne nel quartiere di Santa Maria dei Greci, nel pieno centro della città dei Templi, proprio nel giorno in cui si celebra la liberazione d'Italia. Tra i dieci imputati, tutti accusati a vario titolo di crollo di costruzione colposo, anche il primo cittadino di Agrigento. E proprio la difesa di quest'ultimo ha chiesto per l'assistito di essere giudicato con un rito abbreviato, rito ordinario probabilmente per gli altri ascritti al processo, tra funzionari comunali e impresa che esegui lavori di messa in sicurezza dell'edificio. Bisognerà adesso stabilire se dietro al crollo del palazzo loiacono ci sono omissioni e responsabilità da parte loro. Secondo il PM Fornasier, coordinato dal procuratore di Natale e l'Aggiunto Fonso, si è trattato di negligenza, imprudenza ed imperizia nell'eseguire la messa in sicurezza. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Ottavio Mosti, avrà poco più di due mesi per decidere se accogliere le richieste oppure no. Il pronunciamento è previsto per il prossimo 2 luglio.